Proseguono senza intoppi in perfetto cronoprogramma i lavori al curotti nell'ambito del progetto Città dello Sport. Un progetto da 2,4 milioni di euro finanziato in gran parte dalla fondazione Cariplo che cambierà il volto di quest'area da 45 mila metri quadrati portandola ad essere un vero e proprio fiore all'occhiello a livello regionale. Il campo a 11 è ormai quasi terminato. Il manto erboso, un sintetico di ultima generazione, è stato posato e nel giro di 10 o 15 giorni potrebbe esserci la prima partita a livello giovanile. Il regolamento d'altronde prevede che prima del collaudo il campo sia utilizzato. Si sta lavorando anche per realizzare il campo a 7 nei pressi della tribuna centrale anch'esso in sintetico. Nei prossimi giorni verrà asfaltata la pista d'atletica mentre la posa del Tartan ci sarà prima di fine novembre se le condizioni meteo lo consentiranno altrimenti l'intervento sarà posticipato a inverno probabilmente a marzo. Lavoro in corso anche agli spogliatoi, gli uffici e la zona della piscina dove è stata demolita la saletta dei locali tecnici per realizzare il nuovo impianto di filtrazione che sarà singolo in ogni vasca. Per adesso sta andando tutto bene, diciamo che anche il meteo ci ha dato una mano. La cittadella dello sport sarà davvero un vanto per domodossola e non vediamo l'ora che possa essere ultimata. Le parole dell'assessore ai lavori pubblici di Franco Falciola.